Andiamo su, vediamo che succede. Oh, fermi! Mo' voi non lo vedete perché nelle scritte gialle è sbagliato, ma io ce l'ho tra i preferiti il tuo coglione. 30 HP, non male, non male. Fermi! Non ci muoviamo! Non ci muoviamo! Però al 25 ne abbiamo un'altra di mossa. E allora Flareon, Flareon extrasenso. Cazzo, stealth rock? Ah beh, meno male. Snover extrasenso. Allora, in teoria fino a dentro Brock non hai problemi con Shedinja perché non dovrebbe uscire. Tanto questo pure ottimo via. Allora, valutazione, strumento. Persi in Barry, il Confusion in Battle, Belu Barry, inutile. Flying non ci interessa. Ghost l'abbiamo messa. Ghost l'abbiamo messa. Attacchi in a Finch. Italo, come in a Finch, more first just once. Non ci interessa. Lasci Katip Barry. Hai quattro cure. Primo Pokémon di Petra. Explode. Si becca extra tempo. Cazzo. Mette Spikes. Non si frega un cazzo. Via, via. Tanto c'ho 30 pp. Via, subito. Amparoth. Extra tempo. Flinch. Extra tempo. Meno male che c'ho la bacca. Meno male che c'ho la bacca. Mamma mia. Mamma mia. E lo so, ma l'ho detto prima che quella death alta si va proprio per Shadow Force. Quando, ripeto, la chiami, non è più fortuna. Fagli Shockwave. Wish. Il coglione su Wish. Ma tanto muore prima. 24. Butterfree. Gli fai extra tempo. Eh, ma Bonerang c'ha il 90% fra te, eh. Rischi che misti. Ed è Roxanne che cade sotto i colpi del nostro Deossis. E' un po' incredibile. Il re. No, no. Lascia cazzo il brega. Fida. Fidate. Lo punni. Lo punni sta troia. Mi sa che... No, non ho visto mostre. Ok. Exeggutor. Cazzo. Devi tiri di Iceborne. Ottimo. Utilizzando la berry. Hai ragione. Sì, sì. È vero, è vero. Poi alle bruce abbiamo pure un full restore, mi pare. Quindi, insomma, in qualche modo te la giovi col veleno. Hai ragione. Mamma mia, ma ecco, e se quello me paralizzava in fattivo. Buono. Dovrebbero mancare due allenatori, se non ricordo male. Forse tre. Extrasenso che vedo super efficace. Ottimo. Via, subito. Così basta la rigiocata. Efficiente. Ultimo allenatore. Musciarna. Musciarna si prende comunque Shockwave e se la va a rigiocare. Sandrew si becca extrasenso e se la va a rigiocare. Allora, ragazzi, qua pure è un bello Spartiacque. È un bello Spartiacque, però te la giovi. La berry ce l'hai. Blasdoll si prende extrasenso e se la va a rigiocare. E mi dà pure un livello. Ottimo. Zeb. Traica. Brutto. Mai visto. Morto. Ambipom. Mai visto, ma morto. Musciarna è morto prima il bastardo, eh? Ottimo. Senslash. Via, extrasenso. Così. L'ultimo ed è Camerook. E siamo fuori. E siamo fuori da Rudy. Siamo fuori da Rudy. Siamo fuori. Siamo. Guardala di Kaizo. Guardala là di Kaizo. Pulito. Rudy no damage. Che mostra mi dà? TM 08. Dammi lancia fiamme. Fallo. Oddio. 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 Non mi scliccare. Togli Iceburn. Regà, 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 ragà, ragazzi, 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 ragazzi. Sì, sì, assolutamente. Tiro dritto, tiro dritto. Sì, bravo. Sì, bravo. Gengar. Via, subito. Si parte con Valtre. Questo è sempre sceso giù con Shockwave. E continuo a farlo. E facciamo 45 più 4 special. Ottimo. Via anche sto deficiente. Andiamo subito. Vai, dai, dai. South Book. Mai visto che usa Fake Out. Il rosso in culo. Giusto per depotenziarmi Water Spouse. Maledetto. Allora, se l'abbia andato giù l'altra volta con Water Spouse. Ottimo. Lo fa ancora. Ottimo che vada giù. Regà, che cazzo devo fare? Non so che spot avere. Che poi Water Spouse, regà, ma per pelle fat la svolta. Mo' che ci riflesso. Perché non mi segna che Water Spouse è super efficace? Vabbè. È Aoe. Sì, sì, è Aoe Water Spouse. Sì, sì, assolutamente sì. Allora, se riesco qua vorrei non utilizzare Water Spouse. E tenermelo per il coglione. Ok, ci sono riuscito. Ottimo. Dai, via. Pure Gritta. Guarda che poi la vita scendeva male di quel coso. Perché non mi c'hava un'ottima difficoltà speciale. Cazzo, non ho dato la bacca. Vabbè, sì, cazzo. Non ci serve, giuro. Fundirust. Fagli Water Spouse, dai. Godoo. Southbook. Sempre lo stesso coglione di prima, sempre coste caos. Oddio, ma sto oltre metà vita. Quasi meglio qua che c'aveva la bacca, sai. Se quando non ci sono, droppi il Cicodmon e te lo devo pure il follow. Da chi si è evoluto? No, abbiamo messo Deoxys stamattina tra i preferiti o ieri sera, non mi ricordo. E niente, eccolo qua. Forse qua sprecata fu il restore, ma non potevo rischiare, caos. Non si poteva rischiare qua. Questo ti tirava... Una palla ombra ti mandava al bar. Ottimo. Meta conferma, io attacco. Ottimo... Ottima formazione. Subito Steelix, Water Spout. E al primo non è la cosa migliore, però... Ok. La Barry ce l'ha, io gliela lascerei anche per gli allenatori, perché tanto ce n'ho un'altra per il Dark. Quagsire. Quagsire non l'ho mai visto, però... Ok. Warmadan. Warmadan. Se la vado a rigiocare, perfetto. Tutto V2. Tutto V2 mi terrei uno Spout, per piuttosto. Perfetto. Via. Dai. Vai. lo so! Faticoso così! Faticotissimo! Vai cazzo mamma mia! Maledetta troia di merda bastarda! Maledetto bastardo lurida rotta in culo te tuo padre tua madre quella troia soccola guarda che cazzo! Regà ho streppato perdonate mi è saltato un battito mi è saltato proprio un battito mi è saltato madre di dio! Allora io la caziv berry gliela lascio gliela lascio e contestualmente se dovessi sprecarla incrociando e sperando che non debba accadere c'ho quella lì per il dark tanto è uguale quindi tanto vale dai via subito Sorterra! Water spautalo! Mortacci tua! Vabbè questa lo so usati per fozza! Quindi due extra sensi allora segnare segnare! Ufff! Ti prego devi essere più veloce a colpire madre di dio! Due pokémon due water spaut però eh! Vabbè regà è assurdo! È assurdo! Tre pokémon tutti 600! Fembo! Sì sì quel pp max è MVP! Guarda pure questo 500 eh! Non scendi! Ma che è? Ma che cazzo sto a vedere? Das Noir! E devi fare per forza water spaut! Che cazzo fai? Solo 500 o più! È arrivata la matrix! Eccolo pure lui! Mancava! Poi? Mandi pure cacturn adesso? Dai mandalo cacturn! Non ho parole regà! Crittalo! Ti prego! Con due shockwave va giù il pezzo di merda! No! Regà regà! Non c'è stato il senso! Mi sa di no lo sai frate! Mi sa di no! È l'unica cosa che mi manca! Ho 20.000 cure! Non c'ho niente per i pp! Qua non c'è un cazzo! Non so se c'ho una berri ma non me pare! No! Un cazzo con le patate fratelli! Ma guarda quello! Guarda quello! Come me la gufa! Oh non ci sono! 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 Allora però siamo da norma! Eh no! Quel po' si che il waterfowl si aveva tenuto per coccodrillone! Dammi tipo un Magikarp! Eh qua devi provare extra senso! Va bene! Extra senso per il flinch? Non serve! Motim! Sto rotto in culo! E' sempre resistito! Ok! Flinch! Eccolo qua! Eccolo qua! Eccolo! Tattico! Tecnico! Superiore al nemico! Via anche Norm! Qua c'è tecnica Ma non me roppi il cazzo Mi guardate il mod per favore E mi dite che mt mi ha dato Che ero casato Quindi ragazzi miei Io andrei Via Shockwave 4x Primo allenatore Primo pokemon morto Coglione di Miltank E' sempre andato giù con extra senso E infatti Umbrio mi sa che cazzo non l'abbiamo mai visto Poison ghast Kill a shirinja Sì ed è già successo No no me l'ha detto Me l'ha confermata il Rhymperius Che è buona Quindi non roppete il cazzo Questa cosa dell'invalidata Allora Qua peccato per lo spout Però Ok lì Leggo super efficace Ci piace assai Extra senso Sempre andato giù Continuerà a farlo Qua non c'è un cazzo di nessuno Vai avanti Musciarne è sempre andato giù di spout Però Ma vaffanculo Via Ho un pp up Però water spout E' già maxata Perché l'abbiamo già trovato Gliel'avevamo dato in un momento critico Perché non c'avevamo povere su un cazzo Praticamente Extra senso E' stato tipo il dal bosco Che non lo incontravamo E figlio di una maledetta Cioè regà Questo mi sta a far gameplay competitivo Sì sì A inizio run Ci stava The Oxy segnato a Tentrager Sì sì E' solo sto coso giallo In cui ho messo le scritte Che tu vedi Scritto mio Ma Non Non c'entra un cazzo Allora Il coglione si è addormentato Io mi pare di ricordare Di avere avuto una awakening Prima o poi Infatti è quello qua Extra senso Ah un Dome che si prende Shockwave E pure che stai protex Non me ne frega un cazzo Falese fratellino Falese Ma perché da te le passe Scusa Direttamente da questa Eh Porca pignotta Brutto questo eh Questo resiste Pezzo di merda Però con Waterpice Con l'HP Allora Aspetta qua Ce l'abbiamo per questo momento Le pure Ce le abbiamo Non le abbiamo mai usate Finora Stanno qua apposta Per essere usate Rosemary Vedo che Pokémon C'ha lui Nel caso tiro Tipo Una Root O Una Lemonade Allora Questo deficiente Non mi ha mai attaccato Perché l'ho sempre Massacrato prima Ma la domanda che ci poniamo è Conviene su un 500 Provare a curarsi Secondo me No Tu su du vo du Già sì Tu su du vo vo Già sì E ti usi Una bella lemonada Visto? Tutto qua Che ci vuole? Senza panicare Eh lo so Poteva avere la sub Speciale Però Che zella Cazzo Comunque Ce l'aveste avuta È un 4 e 10 Oh me la rischio Preferisco che Su era Ora Arriva il turno Dessa testa De cazzo A sta testa De cazzo Che gli dai Gli dai Eh per forza Perché noi abbiamo Sempre lo stesso timore Che non è che è cambiato Che è il timore Di palla ombra E quindi Deoxys Si cucca palla ombra Peffò Esatto Come direbbe Il Dario Moccia Se vinci là Viene da roschi Accoprì il Dario Via Dai Oh ma star Oh ma star Oh ma star E rischi Extratenso Cazzo Brutto Però gli fai Sprecare un'iperpozione In realtà Non è male Sempre è andato Giù di spouse Il deficiente E lui E lui c'ha E lui c'ha un Pokémon ferito Sempre è andato giù Di extrasenso Ed è andato Questo è lo stesso Di prima E te lo distruggi Peccato che non l'hai Ripirato Avrei goduto Non l'ho mai incontrato Critico Ti gode Rampardos Ti fa Spout Deoxys Ti fa Chaffegout Il rotto in culo Winona Ryder Vai a farti potere Te e Stranger Things Ottimo Feather badge Dammelo Quindi Dicevamo Adesso Signori miei Tutto quello Che finora Abbiamo fatto Potrebbe non essere Contato Niente Niente Perché adesso Arriva questo momento Qua Slave Posato Via Primo Pokémon Sempre è andato giù Continua Ad andare giù Sì esatto Bravo Discorso per finale Di Champions Cioè Questo qui Cazzo Ne Neanche Murillo Nel Champions Di Triplay Di questi discorsi E poi Si è perso Si è perso Si è perso Allora Questo è sempre morto Ma perché Io ho sempre fatto Water Spout E infatti Terzo hotel è fatto Dopo il re E samurai Arriva Deoxys Ma non è detto Ok C'è ancora Da fare Gli allenatori Cazzo Ecco Vedi Questo è terribile Per noi È fottutamente Terribile Perché ti toglie Potenza Water Spout Che a noi serviva Come il pane Cazzo No Wonder Room Anche no L'ho appena B-Shotato Lui usa Wonder Room Ripeto Non capisco Il motivo C'è Cleon Tenerizio Uno Questo mi pare Che l'ho incontrato Una volta 64 livelli Fe l'ho buttato Giù E infatti Beh Sì In realtà Potrebbe avere Senso Basta No 26-26 Fa 52 Vabbè Però Una lemonata Per sta stronzata Per sta stronzata Vedi Dai Quasi qua Sì Ne do un'altra Magari fallisce No Però Però sì Abbiamo recuperato Dei PS Tutto sommato Quindi Se c'è un rattata Che esce Da qualche parte Minchia Manco Water Spout Questo fatto Stronzo Ma lo sapevo Già Che resisteva No 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 Questo l'ho fatta Sì Fatti tutti No Allora Adesso Esci Prendi lo slave E rientri No Che so Deficiente Withdraw Via Ok Tutto fatto Giusto Adesso Bag Sempre il stesso discorso Regà Questo deficiente C'ha uno strumento Togli Sennò Ci invalidano La RAM La RAN Utilique Special Questo l'ho fatto Sì Questa l'ho fatta Sì Controlliamo Onde evitare Se sa mai Me ne ho perso Uno Non se sa perché Peggio di un esamo Di stato Frate Io all'università Non avevo così Tanto ansia Allora Il plane Potrebbe essere Sentilo qui Entri Special Attacks Loro Attaccano Io spero che L'IA Gli dia L'input Di killare Prima Lo slave E a me Di non incularmi E se proprio Devo essere Proprio se voglio Sgravare Sperare che A loro Gli dia Una mossa Che colpisce Tutti Vai Quello Quello c'ha Download Però è sempre Comunque Un coglione Speriamo Che devo Fa Allora Ok Abbiamo detto Di dover Utilizzare Natural Gift Su Deoxys Sucker Punch Via Giù Ok Water Spout Via Allora Lui mi ha fatto Sucker Punch E mi ha fatto Del danno Forre 3 Acciaio Bug Extrasenso Non è molto Efficace Però io Non so Che mosse Fa Fai Water Spout Dai Ok Qua Tu tiri Una Iper Pozza Eppure Lui E Sucker Punch Fallisce E Allora Che fai Lo tiri Un altro Special Attack Oppure Ti posso Dì La giocata Invece Qual è E Se Invece Usassi Special Defense Che fai Se la Busti Uno Special Defense Qua Perché Lui Tanto Ti rifa Sucker Punch E non Ti attacca L'altro Rischia Che ancora Te tappi E Comunque Lui Ti è Baffato La Difesa E Tu A Difesa C'hai Forco 2 2 58 Rega Vedi 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 Cazzo E Adesso Fai Water Spout Giù E Giù Mi Esciao Slow Start Ottimo Bedrill Oddio Sti due Deficienti Vai 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 Il Run Killer Stel E Pat Tatticamente Tecnicamente Sono stati Abbattuti E adesso Si gode Non vi dirò Non piangete Perché non tutte le lacrime Andranno perdute Questo Ha detto Cioè Sono comunque Obbligatori Questi Deficienti Eh Ok 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 Vabbè Farfetch Muore così Minchia A 60 Greve Allora Questo Non l'ho mai Rischiato L'extrasensi Perché ho visto Sempre Il super Efficace Vedi Buono a Saperti Che lo Deva Potremmo Mettere Però Se passava Da sotto Allora Capirai Sto cosa Difficulta Aumentata Se ci raccomando Ok Ah però Cazzo È vero Poi non serva Niente Una bella Uncempare Allora Adesso Purtroppo Tu l'unica cosa Che puoi fare Dai Sprega un Water Spouse Così non Prendi Danno Di L'unica cosa Che devi fare È se Costituisci Una mossa O togli Shockwave Ma mi devi Dare Una mossa Oppure Mi devi Da una Cover A Shinger Che io Metto Over Poison Gass Sennò Non puoi Toccare Niente Fai Fai Niente Per il meme Ottimo Shackle Non testato Su Extra Tensori Vaggiu Extra Tensori Sto figlio Di mille Troie E Cristalo Una Volta Una Segna Segna Brutti Quei due Insieme Sta tronza Già l'ho Disintegrata Tutti in punizione Che guardano Il muro No vabbè Immagino Che sia Per non Triggerare Ah lui Ha imparato X-Cistor Ottimo Guardate Come me la scammano In questa palestra Guardate Come deve finire Sto storie Amo Non mi ricordo Ok Ottimo Ah Questo era Il magico Da telepath Grande Non commenterò Questo ultimo Messaggio Molto curioso Sarò sincero Shockwave 4x Si gode? Si gode Dammi 64 Dai Questa cura Sai che non lo so Se hanno le cure L'ultimo Ecco Eh qua Devi spautare Per forza Questo mi sa Che No Lui Ne manco L'ho preso A 66 Lui Non lo ricordo Fatti tutti No? Ancora Perfissi Beh Bel coro Non immagino E' che Non è a tempo Perde Capito Secondo me Allora Mo Forse le strassate Via Parte più difficile Di tutta la Kaizo Completare Completare Sto coso Senza cascare Nel buco Del fusto Cazzo Non me lo ricordo Allora Fai così Fai così fai così Fai così Fai così Fai così C'ho 4 Voter Spouse per 6 Pokémon Purtroppo è depotenziato Quindi è solo cover Allora questo deficiente Non gli ho mai visto una mossa Non vedo perché dovrebbe cominciare a rompere il cazzo adesso Quest'altro deficiente L'ho sempre colpito a full vita Ottimo e morto Questo ti rischi uno Shockwave Rischio inutile Water Spouse Water Spouse 4x non lo puoi Abbatti gli antichi dèi Uccidi Arceus Dai chi è l'ultimo Vai il plume Siamo ufficialmente alla via vittoria Entiende Entiende Easy Siamo al momento della verità Il momento Che tutti noi In live da Togli sta cazzo di via di storia e forza stella Compra due furrezze In live da 5 ore e 31 minuti e 2 secondi Con un Deoxys 600 base stat Difesa 287 Special Attack 310 Special Defense È il punto dolente del nostro Pokémon 136 Speed 240 Il Pokémon è veloce Il Pokémon è potente Abilità di merda Perché non serve letteralmente a un cazzo 328% di cure con 9 strumenti Purtroppo un po' una merda Ma In questa merda Ci abbiamo comunque Delle cure che ci potenzialmente danno tutta la vita Perché ci abbiamo proprio qua Ce lo troviamo Una Max Potion Che ci sarà buona come il pane Un Energy Root Buona come il pane E basta Un Momo Milk Che comunque regà Non scorre... Sul cazzo mio non c'è scorreggi Tasteggi Tasteggi Come diceva un grande poeta Polly Chat è nascosto Saluta la Matrix E Polly che sta occupando Polly Matrix Questo è per voi Si scrive la storia Si mette subito La Barry Che Barry metti Tu mi dirai Io ti dirò che metto la Barry dei matti Da inizio run Che io do sta cazzo di Barry Grazie a Dio non è mai servita Ed è arrivata alla Lega Ce lo ricordiamo tutti Quando nel Bosco Smeralzo Io dissi Doppia Cabip Berry Che cazzo è una Cabip Berry Ecco Quella bacca che noi abbiamo raccolto nel Bosco Smeraldo Oggi è alla Lega Pokémon Non c'è nient'altro da dire Se non La Gloria Si va Lega Pokémon Livello 88 per noi Quasi 89 Proprio lui Ronaldo il fenomeno Notare l'iconica capigliatura Questo ce lo ricordiamo Devi usare per forza Water Spouse Se no non va giù Light Screen È uno psicodramma Ammenicia È uno psicodramma Allora Qua si deve correre immediatamente ai ripari No 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 Mo' ti faccio vedere la differenza tra me e gli altri Allora Tu qua ti in un X Special Ah cazzo è veleno Sono un coglione Ma lui non ha mosse Secondo me Infatti Withdraw A Critical Hit Shockwave ancora Che poi così si è tolto tutte le cose I buff Paltia Lo incontrammo una volta Ci fa Hurricane È la fine per noi Crit Ridammi No non ridarmi nessuno Allora 251 Quindi sono 200 preciti preciti Energy Route Night Slash Water Spouse Via Let me cook boy Let me cook E vabbè però Critico È la fine C'è ancora facciata C'è ancora facciata Allora Vi fai un Water Spouse Adesso Flinched Amnicia Non ce ne frega un cazzo Fallo flinciare Non flincia Non flincia regà Light Screen Via Ma questo cura Mi sa che ci sono finite le cure No Allora Regà Qua però Tiriamo un Max Elisir Per Water Spouse E ci curiamo di tutte le cose Allora vai Tanto lei non ha mosse Tipo Infatti Pozione Via Poi Senti Io pure a sto punto Lo Ramberry La dono Che cazzo Mi frega Tanto Ok Adesso C'ho Da tirarmi Un'ultima potenza Perché c'ho La Fresh Water Allora Domanda Qua fondamentale Che facciamo Ce n'ho solo uno Lo tiro un Max Elisir Dici aspetti il prossimo Ci fotto Extra tenso Dai Meno Uno Ci siamo Secondo Super 4 Kuro Lili Ti potresti dare anche uno sulle due Guide Hunter Ormai Sì sì Infatti lo farò Extra tenso Via Meno uno Gastrodon Extra tenso Resiste Ma splincia Usa Balanga Ma a noi non ce ne frega un cazzo E ancora con sta cazzo De Balanga E mori Water Spout Via Lifeon E' sempre andato giù Via Figgi Figgi Prego Ok Non ci fa danno Accriticalist Ti posso dire Che io qua Mi tirerei una cura Da 50 Perché tanto esatto Lui curava Speed E attacco Lui mi usa cross chop E' rotto nel culo Non lo shotare Fira di un'altra fresh Non fare critico Bravo Non è servito a niente Ha fatto critico dopo E' rotto nel culo E' l'ultimo Effimia De Erba Che va giù Anche Curo Lili E' stata abbattuta Tu sai qua Che fai? Per forza Devi fa' Tp up Su extra senso Tra te E te ne ridai sei Usare Rebellente Ce ne frega un sacco Terzo Super 4 La fidanzata del masseo Che fa l'estremo Ogni tanto Non mi ricordo Come si chiama Scolipide Si becca Extrasensory Per 2 E noi facciamo Il livello 90 Rhyperior Necessi Tancalo Cazzo Brutto Vogelita Lei Allora Io Shaming Non l'ho mai visto Tirare un cazzo Però Va detto Che cosa Va detto Che cosa Sa la 2 perre Sicuro E che fai Allora Rischi una cura Da 100 O vai di extra 100 Che fai qua Riga È dura Allora Perché Cura da 100 Magari Si bussa Ma io Non lo so Se non L'ho Sciotto Eh sì L'abbiamo Sempre Chillato Però E ora È a livello 81 Anche Il tool List Il chat Quale Onore Signor Tullis Quale Onore Io Non mi Ricordo Sincero Eh ma Allora Perché io Su di lui Non l'ho mai Usato Waterpout Perché Non avrebbe Senso Perché Non è Molto Efficace No E non Ho mai Visto Moste Quindi Significa Che io Con Extra Senso L'ho Sempre Shottato Mo Ripeto Il fatto Qual è È che Io Sono Livello 90 Ma Lui È Livello 81 Va Ha detto Che Ma Ha detto Che I pokemon Dopo un po' Morivo lo stesso Morivo lo stesso Ragazzi Chiaramente Inner power M'ha fatto Che Gli ha Gli ha Gli è andato Folletto Sì sì Sarei morto Anche Con la cura Anche Il Mativic La ringrazio Dottor Mativic Quale Onore Vedere Tutte Queste Personalità A Rendere Onore A Questo Deoxys Posso dire una cosa? Non abbiamo sbagliato un cazzo Abbiamo fatto tutto quello che andava fatto E l'abbiamo fatto sempre nel modo corrento Anzi, ti dico un'altra cosa A voglia Dottor Remperius, ora me lo sistemo e sbaffa il culo Ti posso dire? Siamo stati molto sfortunati Perché quel deficiente prima ci ha zoppato la special disp E questo magari con tutta la special manco te li ammazzava Vabbè ragazzi, io ripeto È andata così, alla Lega è un tiro demonese Allora siamo presi under culo Siamo morti contro un 600 BST Che è normale come possa succedere Odio come best pokemon Se non ti droppava senza curare Esatto, quello è stato capito il discorso Che ha droppato Se non droppava curavi Perché ne andavi a full vita Io ho sperato anche nel flinch Magari Tu comunque dici Oh non lo shot di flincha No Peccato, peccato Però Deoxys rimane tra i preferiti Deoxys rimane tra i preferiti Startup B Allora È stata una meravigliosa avventura Sicuramente finirà su YouTube Anzi, punto esclamativo YouTube Per andare a recuperare E già Amparos E tra stasera e domani Coso, Axtorus Questa è stata veramente una bella run Soprattutto, cioè, mi ha fatto piacere vedere In chat il Rimperius, il Massivic, il Tullis Significa che abbiamo fatto paura ai piani alpi Ma siamo qua per vincere la sta competizione Io quando ho perso con Axtorus Ho detto Ragazzi, cazzi Ne startiamo subito un'altra Ne startiamo subito un'altra E... Adesso ci... Probabilmente perderemo tutti gli spettatori Che ci hanno seguito fino ad adesso Adesso ci deve... Mi devo fare un attimo 10 minuti di pausa Rispondo a 20.000 messaggi che mi sono arrivati Io sto stamattina e sto in live E non mi sono incurato nessuno E... Messo il torno subito E per chi vuole Ci rivediamo tra 10 minuti o un po' E questo dovrà Intanto, grazie a tutti E spero di rivedervi per il futuro Perché ripeto Che tanto va vinta questa Siamo qua con la mentalità giusta È fatta Dai, regà, tra poco Se beccamolo tra pochissimo Bella Grazie